Friend of the Sea nasce dalla mia esperienza nel progetto Dolphin Safe, che ha salvato milioni, letteralmente milioni di delfini dalle reti del tonno che morivano nel Pacifico Tropicale Orientale, attraverso una certificazione del tonno pescato senza danni a mammiferi marini. Mi resi conto allora all'inizio degli anni 2000 che la certificazione poteva essere uno strumento fondamentale per raggiungere risultati di conservazione tangibili e importanti. Quindi abbiamo lanciato nel 2008 Friend of the Sea, che attualmente è l'unico standard di certificazione della pesca e dell'acquacultura sostenibile, indipendente, totalmente indipendente ed anche riconosciuto dagli enti nazionali di accreditamento.